Con MTV Mobile Freedom hai sempre l'abbonamento giusto. In vacanza, per esempio, usi un abbonamento. A casa ne usi un altro, per raccontare solo ai tuoi tre migliori amici quello che hai fatto. Oppure ne hai bisogno di uno per raccontare a tutta la Svizzera quello che sta succedendo. Dunque, puoi cambiare abbonamento quando vuoi tu. È ora di cambiare, solo con MTV Mobile Freedom. Cambia l'abbonamento adatto a te quando vuoi. Ora in tutti i punti vendita Sunrise. Grazie a tutti.